Inaugurati i lavori di riorganizzazione e potenziamento del pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Popoli. I lavori hanno riguardato la localizzazione di aree distinte di permanenza per i pazienti sospetti di Covid-19 in attesa di diagnosi e tamponi, creazione di un'area pre-triage, un'area per l'osservazione in pressione negativa, percorsi distinti individuali, segnaletica a pavimento ed una sala di attesa all'esterno del pronto soccorso. In questo modo abbiamo messo in sicurezza i pazienti innanzitutto, ma anche gli operatori del pronto soccorso, creando dei locali adeguati che sostituiscono quello spirito di avventura che ha caratterizzato la fase 1 delle pandemie, in cui non sapevamo che cosa fare e abbiamo rischiato molto, per fortuna è andata bene, nessuno si è ammalato. Adesso invece abbiamo creato una situazione razionale che mette in sicurezza tutti, io dico anche l'ospedale, perché ci consente di distinguere, filtrare e inviare i pazienti Covid negli ospedali adeguati. A seguire sono stati consegnati anche i lavori per un ammontare di 4 milioni di euro per l'avvio dell'adeguamento sismico della palazzina C2, che comprenderà a fine lavori la rianimazione e la cura delle cerebropatie acquisite. Quindi lavori importanti, ricordiamo che per Popoli sono stati previsti 8 milioni e mezzo di lavori, alcuni lavori sono stati completati, siamo andando avanti, quindi come stava dicendo giustamente lei, ricordiamo che la volontà è quella di fare in modo che Popoli torna ad essere quello che era una volta. Soprattutto in previsioni future? Assolutamente sì, l'augurio è questo, l'ospedale è questo, soprattutto sperare, anzi quanto prima arriverà la fine di questa pandemia, ce l'auguriamo tutti, immediatamente siamo pronti per far sì che l'ospedale torni ad essere, come ho detto prima, quello di una volta.